Vuoi partecipare al Click Day e vincere il bando Inail su circa 20.000 aziende? Soltanto il 12% riesce a ottenere i fondi. I tuoi cliccatori sono abbastanza veloci? Allenati e migliora i tuoi tempi utilizzando il simulatore Click Day. Il sistema numero 1 per allenarsi e vincere. Il simulatore è nato dall'esperienza degli anni passati. Può essere utilizzato sia da cliccatori singoli, sia da aziende ed organizzazioni che devono allenare una squadra di cliccatori. Per allenarsi è semplicissimo. Basta copiare il codice aziendale e cliccare una delle prossime simulazioni. La simulazione si comporta esattamente come il vero Click Day. Quindi occorrerà aggiornare la pagina ripetutamente finché non sarà possibile inserire il codice aziendale e rispondere alla domanda di controllo. Poiché nessuno conosce in anticipo la domanda che comparirà sullo schermo durante il Click Day, il software te ne propone una diversa per ciascuna simulazione. In questo modo tu e i tuoi cliccatori potrete allenarvi e migliorare i vostri tempi in ogni possibile situazione. Se i dati inseriti sono corretti puoi vedere il tempo ottenuto e passare alla simulazione successiva. Dalla schermata principale puoi tenere d'occhio il tuo tempo minimo, la media rispetto al tempo da battere e hai un grafico sempre aggiornato sulle ultime 15 simulazioni. Sul pannello amministrativo puoi gestire tutti i tuoi cliccatori ed ogni aspetto dell'allenamento. Puoi scegliere a quale regione fare riferimento per quanto riguarda il limite da battere oppure puoi impostarne uno personalizzato. Puoi modificare i dati di accesso dei tuoi cliccatori o aggiungerne di nuovi, semplicemente scegliendo uno username e una password. Se hai tanti cliccatori puoi dividerli in squadre. Ogni squadra avrà il suo coordinatore che potrà gestire l'allenamento, impostando per ogni cliccatore il quantitativo di simulazioni al giorno che può fare per allenarsi. Puoi anche verificare le statistiche di ognuno e monitorare l'andamento delle simulazioni rispetto al tempo da battere. Il pannello delle statistiche ti offre una visione totale di tutte le simulazioni come cliccatore. Oppure una visione di squadra che ti consente di fare paragoni tra tutti i cliccatori che la compongono. Puoi selezionare il periodo di analisi e verificare il miglioramento della media della squadra nel tempo. In più hai la classifica completa dei cliccatori in base alle loro performance. Per qualsiasi necessità puoi utilizzare la live chat in basso a destra e chiedere assistenza. Simulatore Click Day. Il clic giusto.